Il forum è nato per sostenere le associazioni, quelle che partecipano già e che hanno costituito il forum e poi anche tutte quelle che vorranno ovviamente in futuro partecipare. Quindi la prima parte è diciamo rivolta alla famiglia. Ovviamente mano a mano che la famiglia diventa più importante saremo in grado anche di fare delle proposte concrete. Le proposte varate dal nuovissimo forum delle associazioni familiari Trevigiano sono già molte dalla formazione delle nuove famiglie per favorire la stabilità e durata nel tempo visto che in Italia un matrimonio su tre oggi si risolve in divorzio alla creazione di reti familiari per sviluppare una cultura della solidarietà. E ancora la costruzione di spazi verdi per i bambini, abitazioni spaziose e percorsi sicuri. Ovviamente a tutto ciò si abbinano richieste economiche come quella di un fisco più favorevole ai nuclei familiari. Ad esempio si punta sulla riduzione dell'addizionale comunale sull'IRPEF in funzione dei carichi di ogni famiglia. All'interno del forum sono presenti una quindicina di associazioni adesso unite e coordinate verso uno stesso obiettivo anche se tutte continueranno ad operare nel proprio campo specifico. Per quanto riguarda il Movimento per la vita di Treviso noi abbiamo un'iniziativa che partirà tra poco una cooperativa che è molto vicina a noi perché è formata da persone del Movimento per la vita. Presto partirà con la lavorazione di abitini per neonati e di cose per la casa. L'impegno delle associazioni è sicuramente importante e notevole anche se non può sostituirsi all'aiuto che lo Stato dovrebbe dare concretamente alle famiglie. Soprattutto quando si tratta di figli l'Italia si porta piuttosto in basso nella classifica europea facendosi superare anche da Ungheria e Irlanda. Senza contare Spagna, Austria, Francia e Germania impegnati in una vera e propria protezione della maternità. La Germania ad esempio prevede 1.500 euro mensili per i primi 18 mesi di vita del bambino e un contributo di 500 euro al mese per ogni figlio fino alla maggiore età. Beh, davanti a questo il nostro bonus bebè di 1.000 euro fa una gran magra figura.